Ben trovati, ben trovate di nuovo, grazie di seguirmi, un saluto da Simonetta, insomma, sono felice di stare in vostra compagnia. Allora, in questo video, che comunque non è un video lungo, è un video breve, vorrei presentarvi un altro tra i tanti metodi magici che è molto utile per farci sbloccare da una persona in particolare, quindi da una persona che ci ha bloccato sui social, che ci ha bloccato sul telefono, su whatsapp, eccetera, eccetera, eccetera. È un metodo che ovviamente rientra nelle ritualistiche di addolcimento, di avvicinamento, può essere usato in ambito ovviamente amoroso, quando siamo stati appunto bloccati, quando la persona non ci vuole parlare, quando la persona gli è preso qualcosa di strano. Può essere usato anche per un'amicizia, perché può essere usato anche per una persona che non è detto che sia la persona amata che vi ha bloccato, ma anche un amico, un'amica, un parente, chi vi pare a voi. Questo metodo è un metodo ovviamente afro-brasiliano, di magia afro-brasiliana. In antichità veniva fatto, non c'erano i social, ovviamente non c'erano i telefoni, veniva fatto per farsi ricontattare. Quindi possiamo benissimo sfruttarle l'energia, possiamo sfruttare la magia di questo lavoro e ovviamente, mi raccomando sempre, la vostra fede, cioè vedere la cosa come già realizzata, come già fatta. Questo è importantissimo. E il resto ovviamente con il potere degli elementi che andiamo ad usare, con il potere dell'universo ovviamente, perché qui non c'è una vera entità che andiamo a chiamare, anche se le entità ci stanno intorno, quelle soprattutto che ci proteggono. Allora, come facciamo? Prendete un foglietto di carta, magari non proprio super minuscolo, un foglietto medio, più o meno così. Possibilmente non ci devono essere righe, puntini, quadrettini, roba varia. I normalissimi foglietti bianchi che si usano anche per fare fotocopie. Per quale motivo? Perché me l'avete chiesto. Come mai sempre il foglietto bianco, senza linee, senza punti, senza quadretti? Perché è tramandato che se un foglio ha delle scritte, delle linee, dei quadretti, delle appunto intersecature varie, blocca l'energia. Invece un campo neutro pulito di un foglio bianco o anche di un altro colore è una cosa del tutto diversa. Allora, come facciamo per farci sbloccare? Intanto si presume che voi abbiate il nome e il cognome della persona. Per fare questo lavoro basta il nome e il cognome della persona. Quindi non è necessario mettere la data di nascita. Poi se volete potete metterla, non è che è sbagliato. Però potete lavorare benissimo anche con il nome e il cognome della persona. Allora, ammettiamo che io voglio farmi sbloccare, ricontattare. Ovviamente voglio che Marco Bianchi mi sblocchi, mi ricontatti, mi cerchi, eccetera, eccetera. Prendo il mio foglio, una penna, il colore non ha importanza. Può essere blu, può essere nera, può essere rossa, può essere verde, non importa il colore. Potete usare anche un lapis, se volete, ma io uso sempre la penna perché si vede anche meglio nella telecamerina. E scrivete, ho detto Marco Bianchi, quindi potrebbe essere anche Luisa Bianchi, è la stessa cosa. Si può fare per qualsiasi situazione, sia etero sia omosessuale, non c'è nessun problema. Allora, io vado a scrivere Marco Bianchi intanto in linea verticale, va bene? Poi vado a scrivere, vado a incrociare di nuovo, anche se ci passo sopra non è un problema. Vado a scrivere in orizzontale facendo una croce, dobbiamo fare una croce, scrivendo di nuovo il nome e il cognome. Quindi, Marco Bianchi, in questo modo deve venire una cosa a forma di croce ed è molto semplice, niente di complicato. A questo punto che cosa facciamo? Con grande positività, noi prendiamo un pochino di zucchero, quindi la nostra zuccheriera, il nostro zucchero, può essere zucchero bianco, può essere zucchero di canna, non ha importanza. Simonetta, ma si può usare il miele? In questo lavoro si usa lo zucchero. L'addolcimento, la forza energetica è quella dello zucchero. Poi presenteremo lavori col miele, ne abbiamo già presentati anche altri, non ce ne sono tantissimi. Allora, tornando allo zucchero, voi prendete sette pizzichi di zucchero e li mettete sul foglietto. Uno, non cucchiaini, attenzione, pizzichi, due, sul nome, tre, quattro, cinque, sei e sette. Sette pizzichi di zucchero. Così, semplice, semplice, senza tante complicazioni. A questo punto noi dobbiamo poi piegare in sette questo foglietto, facendo attenzione che lo zucchero non fuoriesca, piegatelo come meglio vi viene. L'importante è che sia piegato in sette, magari iniziate da verso di voi. Quindi, vediamo, io faccio così, lo piego intanto così, lo chiudete meglio che potete. Potete fare un, e questa è la prima piegatura, due, un'altra piegatura qui, tre, un'altra piegatura qui. Quindi, posso fare quattro, vedete che rimane dentro lo zucchero, quattro, cinque, un'altra piegatura, sei e sette. Ecco, dovete fare sette piegature. Poi, voi direte, cosa faccio con questo incantesimo, con questo rituale, con questo pacchettino, eh? Allora, questo pacchettino, chiamiamolo così, del vostro lavoro di sblocco, dovete metterlo sotto il vostro materasso. Cioè, in camera da letto, alzate il materasso dalla parte, magari, dove poggiate la testa, ma non ha importanza. L'importante è che sia dalla parte dove voi dormite, quindi trovate voi l'angolo giusto, lo mettete ben fermo sotto il materasso e lo lasciate lì. Quanto si lascia lì? Si lascia lì fino che la persona non vi ha sbloccato. Quindi è un lavoro che si fa in totale assenza di fretta, assenza di orologio alla mano, perché funzionare funziona, però dovete avere anche voi pazienza. Capire che la magia a volte ha i suoi tempi, che l'universo ha i suoi tempi. Il cosiddetto universo fatto di milioni di energie, fatto di milioni di pensieri, fatto di entità e loro sanno quando è il momento adatto. Lo lasciate lì fino che la persona non vi ha sbloccato, non vi ha richiamato, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta che questo è avvenuto, voi tirate fuori questo piccolo involto, potete benissimo riaprirlo, buttare via lo zucchero, buttare via il fogliettino. Non importa buttare in natura, quindi non importa buttare sotto una pianta, sotto un albero, eccetera, eccetera. Potete discartarlo anche nella comune spazzatura, non c'è nessun problema, perché si considera concluso il lavoro in questo semplicissimo modo. Da volte le cose semplici portano risultati veramente particolari, veramente inaspettati. Perciò con questo rituale di sblocco, vi auguro tanta buona fortuna sicuramente, vi ringrazio e vi dico se volete iscrivetevi al canale, vi fate piacere, il canale crescerà ovviamente sempre di più, potremo pubblicare sempre più cose. Vi ringrazio ancora, vi auguro buona serata o buona giornata, dipende quando guardate questo video. E da Simonetta, bacio come sempre, eccolo qua. A presto.